la redazione sportiva di Molise ha presentato il calendario 2013, tante autorità politiche sportive, gli amici soprattutto della nostra redazione che erano presenti nella sala convegni dell'hotel San Giorgio a Campobasso 12 mesi da trascorrere insieme con i nostri telespettatori, con questa intenzione è nata l'idea di creare un calendario della redazione sportiva tutto è iniziato nello studio del nostro direttore Antonio Di Lallo un'idea lanciata un po' così, per caso nelle classiche riunioni del sabato mattina per decidere le uscite del weekend, come spesso accade Telemolise le buone idee non le lascia scappare e proprio il nostro direttore, supportato come sempre dal nostro giovane editore Quintino Pallante, si sono buttati a capofitto in questa iniziativa circa due mesi per realizzare questo calendario che ieri sera è stato presentato ufficialmente a stampe d'amici presso l'hotel San Giorgio a Campobasso tante le autorità politiche e sportive i rappresentanti di molte società molisane, gli amici ed i telespettatori arrivati da ogni parte della regione che hanno riempito la sala la presentazione è durata circa un'ora e mezza con più di 40 interventi non si è trattato della solita conferenza stampa, ma il nostro direttore ha interagito con la platea quasi si trattasse di una riunione informale davanti ad un caminetto nel salotto di casa a fare gli onori anche Erika Mastropietro che resta una componente essenziale della nostra redazione nonostante da un po' di tempo svolga un altro tipo di lavoro è doveroso ringraziare la tipografia vistosi stampi la rental che ha provveduto a rilegare il calendario al nostro compagno di avventura Gino Calabrese che da un quarto di secolo fotografa tutti i momenti importanti della nostra redazione sportiva ma un ringraziamento va rivolto anche al quotidiano del Molise in particolare all'editorio Giulio Rocco e ai colleghi Alfonso Sticca Stefania Potente e Franco De Santis a Molise TV nella persona di Federico Mandato oltre naturalmente a tutti gli altri colleghi che hanno voluto dare risalto alla presentazione anche attraverso il web a partire dalla prossima settimana le copie saranno in distribuzione gratuita presso le tre redazioni di Campobasso Isernia e Termoli Questa iniziativa nata dalla redazione sportiva è stata subito sostenuta dal nostro editore Quintino Pallante Quintino Pallante editore di Tele Molise dunque lo sport come uno dei settori sicuramente molto seguiti ma anche molto impegnativi per una TV legata al territorio come la nostra Sì, lo sport per Tele Molise rappresenta il massimo impegno in termini di costi e di proprio attività impegnativa che tutte le domeniche occupa la nostra redazione sportiva sono tantissimi ragazzi che ci mettono tanta passione e che cercano di dare informazione minuto per minuto di ciò che accade nel calcio e in tutti gli altri sport della nostra regione Questo calendario che è un momento se vogliamo anche di sintesi di confronto tra giornalismo mondo dell'informazione e mondo invece degli sportivi è stato quasi un ritrovarsi diciamo un colloquio aperto più che una presentazione ufficiale Sì, in realtà il calendario è una scusa perché è stata una bellissima serata che abbiamo avuto l'onore e il piacere di poter vivere insieme agli sportivi al mondo della domenica dello sport molisame è stata veramente una cosa molto bella tutti hanno avuto la possibilità di parlare di confrontarsi e di ritrovarsi perché poi la domenica ognuno è sparso nei vari punti della regione per seguire la sua propria attività sportiva questa sera tutti insieme è stata veramente una bella cosa una cosa da riproporre e sono contento che la nostra redazione sportiva in particolare Antonio Di Lallo ha avuto questa bellissima grande idea è stata un'idea che abbiamo portato avanti sempre voglio dire di concerto con il nostro editore Quintino Pallante un ringraziamento particolare perché insomma fisicamente non c'è più tutti i giorni insieme a noi però certamente a Erika Mastropietro che insomma ha collaborato è venuta insieme a me a Daniela in tipografia tante volte e quindi ha partecipato la serata insomma è stata con con noi sul tavolo anche come presentatrice quindi lei anche se tutti i giorni non c'è più insieme a noi però insomma fa parte di questa grande famiglia e io sottolineerei ancora una volta questo fatto della grande famiglia perché ho visto anche gente che magari non vedi tutti i giorni però quando c'è il richiamo comunque di un appuntamento di un impegno li rivedi e quindi è la più grande gratificazione per noi perché significa che quello che facciamo tutti i fine settimana e tutti i giorni con il TG Sport non resta un percorso vuoto non resta un fatto formale ma è un fatto che invece solidifica sostanziali amicizie e questa è la più grande soddisfazione adesso il calcio di Lega Pro domenica il Campobasso andrà a Fondi per un'altra gara salvezza quasi sicuramente out l'attaccante la Keb Fondi Campobasso è un'altra tappa fondamentale del campionato rosso-blu in terra laziale i Lupi hanno la classica prova del 9 dimostrare i progressi degli ultimi tempi ma soprattutto dimostrare di aver cambiato mentalità il problema in questi casi sta proprio nella testa in queste gare la squadra più concentrata cattiva e con voglia di vincere porta a casa il risultato i valori tecnici sono gli stessi anzi ad oggi il Campobasso ha qualcosa in più rispetto agli avversari di turno tra le due compagini ci sono diversi numeri negativi come è normale che sia dato che stiamo parlando dell'ultima e della penultima in classifica il Fondi è la squadra che ha totalizzato meno punti in casa e ha la peggior difesa del campionato al contrario il Campobasso con soli due punti esterni ha il peggior bottino tra le 18 squadre del girone B di seconda divisione inoltre in settimana la società laziale ha allontanato il tecnico ex Campobasso Nicola Provenza per richiamare colui che aveva iniziato la stagione in panchina e ziolino Capuano altra conoscenza del panorama campobassano per anni Capuano è stato avversario dei lupi e diverse volte è andato vicino proprio alla panchina del capologo Molisano lo scorso anno la vittoria sul Fondi proprio diretto da Capuano all'ultima giornata sancina matematica salvezza di Todino e compagni corsi e ricorsi storici in questa stagione Fondi presenta un nuovo bivio vincere vorrebbe dire come prima cosa accorciare sulla zona salvezza e poi arrivare in condizioni di morale altissimo all'ultima gara casalinga dell'anno e del girone d'andata in casa contro il Melfi di certo oggi il Campobasso è un'altra squadra ma la via per la salvezza è ancora molto lunga Sasavullo sta valutando le condizioni del gruppo e come sempre deve fare i conti con il borsino medico e non l'attaccante Cristiano Bussi è squalificato e non prenderà parte la trasferta il marcatore da tre punti domenica scorsa Samir Lashev ha un affaticamento muscolare e con molta probabilità sarà out recuperato dall'occo a pieno regime ancora acciaccato Candrina ma scalpita per una maglia da titolare Petrassi dunque con l'assenza di Lashev si va verso un ritorno al 4-4-1-1 utilizzato a Teramo con Conate unica punta e di vicino libero di svariare sul fronte offensivo proprio alle spalle della punta Colored dall'occo e Rice in mediana Condi libero ed esposito a proposito menzione per i due fuori quota finalmente scesi in campo con la giusta cattiveria sportiva sulle corsie esterne Giuliano a difendere i pali con Petrassi Minadeo Marino e Pascucci nel pacchetto arretrato lo spirito è rinnovato ora serve convinzione e forza per raggiungere punti vitali alla classifica calcio di serie D l'isernia è tornata dalla trasferta di Arezzo per i quarti della Coppa Italia con una sconfitta rimediata solo dopo i calci di rigore i 90 minuti sono terminati 2 a 2 dagli 11 metri per i molisani gli errori di Vinci Guerra Panico e Lunardo nonostante la crisi societaria che ha avuto ripercussioni anche sui risultati dei Bianco Celesti da apprezzare i tifosi dell'isernia che ieri hanno seguito la squadra intanto domenica a Lancellotta arriva la San Benedettese proseguono gli allenamenti in casa Olimpia Agnonese e Termoli per i Granata dopo due trasferte consecutive domenica si torna a giocare tra le mura Amiche contro l'Ancona prepara una trasferta il Termoli che domenica farà visita alla Renato Curi Angolana tra i personaggi incontrati dalla nostra truppa nella trasferta Toscana Coverciano anche Di Carlo ex allenatore di Chievo e Sampadoria Domenico Di Carlo a Coverciano innanzitutto le chiedo la tendenza di questa Serie A c'è il nuovo che avanza a livello di allenatori? Sicuramente sì diciamo che Montella ha fatto vedere le belle cose alla Fiorentina anche se è un'ottima squadra però comunque mi piace Maran sta facendo benissimo a Catania stesso Stramaccioni sì io intanto andavo dai più bassi magari quelli che si conoscono meno come sta facendo un buon lavoro e poi penso che vabbè Stramaccioni ma allo stesso tempo si sono riconfermati sia la Juve e Mazzarri che stanno facendo molto bene con la sorpresa di Petrovic che comunque è uno straniero però sta dimostrando di avere un buon un buon idea di gioco Lei ha affrontato la Juve da allenatore del Chievo è effettivamente ancora la più forte della Serie A secondo lei? Sicuramente per struttura diciamo anche di calciatori quest'anno la Juve ha acquistato dei giocatori forti quando quelli che giocano titolare quindi dopo tutto c'è la Champions League e deve avere due squadre ma è quello che conta è la mentalità che hanno è la voglia è la fame che in questo modo qui li contraddistingue dalle altre squadre perché oltre alla qualità corrono e hanno fame Veniamo dal Molise da Campobasso in qualche modo c'è un collegamento tra Mimmo Di Carlo e il Molise perché? Ma per mio fratello più che altro che è stato a Cerro Voltuno ad allenare però è durata poco No è durata poco ma è stata una buona esperienza anche se la squadra è una squadra del posto che fa il suo campionato con i mezzi a disposizione che ha sono minimi però penso che le squadre mi è piaciuto sono andato a vedere anche degli allenamenti e mi è piaciuto l'ambiente proprio anche di Cerro Voltuno che sono un po' tutti amici e penso che vada bene così In bocca al lupo per un pronto ritorno su una panchina di Serie A Beh, ci stiamo preparando per quello Questo pomeriggio alle 18 il CONI provinciale di Campobasso consegnerà le stelle al merito sportivo relativi agli anni 2010-2011 la Kermesse si svolgerà nella sala riunioni del CONI in via Carducci Basket è tutto pronto per la manifestazione 80 canestri per vincere ancora l'appuntamento è per le 20 e 30 al Pala Unimol domani sera ai nostri microfoni Luciano Di Vico uno degli organizzatori Venerdì Venerdì al Pala Unimol tanta gente Noi speriamo veramente che tutti coloro che ci hanno seguiti negli anni passati e che seguono adesso ho visto il basket di nuovo possano venire a rincontrarci tutti quanti in questo Pala Unimol per ricordare e nello stesso tempo per essere di auspicio per quelli che dovranno continuare questo sport nel campo basso Noi vorremmo veramente tanta gente perché il basket è uno sport che a campo basso poteva prendere piede già nei tempi passati adesso dobbiamo riportarlo e abbiamo una struttura il Pala Unimol che ci consente di poter ritornare a ragionare normalmente come si può dire in questi termini per per portare su di nuovo questo sport a campo basso che merita di averlo Ricordiamo che oltre a pubblicizzare questo sport a palla a canestro comunque è una partita di beneficenza che serve soprattutto per quello Certo questo lo dobbiamo sempre dire queste attività sono state fatte e vengono fatte da tanti volenterosi per per beneficenza questa beneficenza adesso i nostri impianti sportivi per esempio mancavano non parlo del calcio ma parlo degli sport al coperto mancavano del defibrillatore il defibrillatore è sicuramente una macchina che salva le vite delle persone che fanno sport sport attivo quindi di conseguenza mancando questo attrezzo nelle nostre palestre noi abbiamo pensato che era un modo per agevolare ecco la possibilità che questo attrezzo possa entrare e noi lo abbiamo fatto volentieri e non sarà l'unica manifestazione che porterà questi volontari ad aiutare lo sport nel Molise specialmente a Campobasso tra i protagonisti nazionali del basket molisano il venafrano Andrea Capobianco assistant coach della nazionale italiana Andrea Capobianco il 2012 sta terminando un bilancio di questa avventura anche azzurra per lei ma certamente è una stagione felice molto bella perché indossare la maglia dell'Italia ha sempre un sapore particolare per quanto riguarda me al di là di aver fatto parte della nazionale A il fatto di aver diretto direttamente le nazionali giornali del 2018 sia Mannheim che è un campionato del mondo in pratica sia i campionati europei poi tutto il lavoro fatto in nazione in Italia quindi il giro di tutte le regioni e come CNA aver fatto tanti clinic con 4.600 allenatori una cosa del genere presenti è veramente un qualcosa di straordinario quindi posso dire che sono soddisfatto sono contentissimo so che c'è tanto lavoro ancora da fare però sono veramente molto molto soddisfatto per molti giocatori coach molisani lei è un punto d'arrivo un modello comunque da raggiungere e di imitare però ci vuole un lungo lavoro per arrivare all'apice comunque ma questo fatto logicamente mi inorgoglisce perché io sono molto legato alla mia terra al Molise quindi appena posso cerco di stare anche se gli impegni sono tantissimi questo fatto di essere un punto di riferimento come allenatore e anche come istruttore mini basket mi fa mi inorgoglisce e quindi mi fa molto piacere certamente il lavoro che sta dietro a questa professione è tantissimo perché un allenatore non è colui che va in palestra fare le due ore di allenamento ma è colui che studia la palacanestro è colui che studia gli aspetti mentali delle relazioni umani è colui che deve essere sempre pronto per prendersi cura dei propri giocatori prendersi cura che è un qualcosa di diverso da condentare quindi in certi momenti possiamo andare anche un pochino con quello che può sembrare contro i nostri giocatori invece noi siamo lì ad aiutarli per farli crescere quindi tantissimo lavoro tantissimo studio ma sicuramente la grande soddisfazione di fare un lavoro bellissimo perché abbiamo a che fare con le persone questo fine settimana il CSI di Campobasso ha organizzato presso il palazzetto dello sport di Selvapiana le due giornate dello sport 2012 sabato 15 poi all'interno di questa manifestazione è previsto un convegno di approfondimento sul legame sport e disabilità una stagione da protagonista per il presidente del termoli Nicola Cesare che quest'anno è anche vicino al calcio a 5 di serie B con l'Esernia noi lo abbiamo intervistato Nicola Cesare presidente onorario dell'Esernia calcio a 5 senti un escalation quella dell'Esernia incredibile negli ultimi tre anni i risultati uno meglio dell'altro insomma quando si progetta le cose vanno sempre bene assolutamente penso io sono ho dato una mano da quest'anno onestamente e l'ho fatto soprattutto perché ho visto da subito una grande organizzazione ottima programmazione Antonio Di Franco e tutti gli altri amici della società penso che abbiano fatto un grande lavoro con serenità con grande umiltà con i budget giusti è stata composta una squadra importante pure quest'anno con un buon movimento speriamo che il pubblico ci segui sempre più numeroso pure qui a Miranda ecco giocare a Miranda per te è un handicap o un vantaggio forse un po' di pubblico in più sarebbe opportuno visto che la squadra comunque sta facendo grandissime cose sì al di là della squadra penso che sia un bello spettacolo è chiaro che il palazzetto di Isernia insomma è stato sempre un po' il teatro della nostra della cittadina quindi voglio dire fondamentalmente se potessimo tornare a giocare a Isernia avremmo credo un pubblico sicuramente superiore per il momento ci accontentiamo ringraziamo il sindaco e la città di Miranda comunque per ospitarci però l'obiettivo questo è chiaro della società è o di adeguare l'attuale palazzetto oppure di costruire una struttura apposta per il calcio a 5 comunque a Isernia città ultima domanda è da promozione questa squadra? ma lo dice la classifica che è da promozione poi dopo voglio dire lo sport è così si possono perdere due partite e ritornare secondi oggi siamo ben messi primi in classifica quindi diciamo che l'aspettativa c'è possiamo anche migliorare leggermente l'organico ma non è questa la cosa fondamentale perché se siamo primi un motivo ci sarà Equitazione Lippoform Campobasso ha partecipato ad Arezzo con i suoi binomi al concorso nazionale di salti a ostacoli 4 stelle primo posto ex eco per le sorelle Bianca e Ludovica Ioffredi nella categoria B80 che hanno percorso tracciati senza errori sul poni Imelda la ciliegina sulla torta è arrivata con Federica Colitti e il suo Barsibal che hanno vinto l'impegnativa categoria C125 mista giornata di recupero ieri in eccellenza e promozione per la massima serie regionale il Vasto Girardi ha ospitato e battuto 2 a 1 il Venafro i locali salgono a quota 26 mentre il Venafro resta a quota 11 per la promozione il Campo di Pietra ha battuto 3 a 1 la Cliternina i ragazzi di Civico mantengono la vetta a quota 30 la Cliternina è ferma a 21 calcio femminile presto prenderà il via il campionato femminile regionale non poteva mancare tra i nastri di partenza di questa stagione la squadra del Riccia che anche quest'anno ha realizzato un calendario ne abbiamo parlato con Tiziana Di Criscio capitano della squadra Siamo in compagnia di Tiziana Di Criscio capitano del Casale Riccia femminile squadra che ha disputato nei scorsi anni il torneo di Serie C e si sta preparando infatti i preparativi fervono per l'inizio del campionato capitano Sì infatti ci stiamo organizzando stiamo facendo anche una buona preparazione grazie al mister Valentino Mascia e al dirigente Santromoffa siamo un bel gruppo quest'anno siamo circa 25-30 ragazze ci stiamo organizzando anche per trovare purtroppo dei fondi perché nessuno ci sponsorizza infatti venerdì prossimo faremo l'inaugurazione del calendario quindi presenteremo il nostro calendario per raccogliere dei fondi siete tutti invitati alla nostra festa che si terrà a Riccia al pub a Corso Carmine 29 infatti sì capitano vediamo alle spalle proprio la locandina del calcendario una squadra quella femminile che ha dato tante soddisfazioni anche alla località anche al paese di Riccia vincitore anche della Coppa Disciplina sì infatti diciamo che abbiamo disputato circa abbiamo giocato per dieci anni durante questi anni anche se non ci siamo posizionati tra i primi tre posti però abbiamo vinto comunque per due anni la Coppa Disciplina e questa è la cosa più importante perché il nostro obiettivo è quello di divertirci e soprattutto non farci male ma nemmeno litigare e comunque entrare in diverbio con le altre ragazze oltre a lei come veterana ci sono tantissime new entry anche giovanissime sì infatti il gruppo è formato diciamo da tre fasce abbiamo il gruppo delle persone più adulte insomma di una certa età che supportano ovviamente portano avanti la squadra poi abbiamo un gruppo intermedio che sono già state con noi e abbiamo il gruppo delle giovanissime che purtroppo per il momento ancora non potranno iniziare a giocare ma già da gennaio o febbraio potranno iniziare a giocare in quanto compieranno 14 anni e quindi possono partecipare a questo campionato la gara tra Ripa Limosani e Campo di Pietra verrà trasmessa in differita su Telemolise 2 canale 12 a partire dalle 16 e 30 mentre su Telemolise Sport canale 112 alle 20 e 30 bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio